ciao a tutti benvenuti in questo nuovo mi sono morso la guancia ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video un nuovo prodotto di eco flow che però non è una grossa batteria di accumulo un'espansione un pannello qualcos'altro ma è una piccola power bank piccola neanche tanto comunque poi vedremo i dati tecnici la cosa particolare che sto notando da un po di tempo che molti costruttori di power station come la stessa eco flow che conosciamo già per molti prodotti interessantissimi abbiamo provato power station fotovoltaici da balcone eccetera azienda che anche lei è un colosso mondiale presente dal 2017 con la missione di alimentare il mondo con energie rinnovabili vita off grid eccetera e anche eco flow arriva sul mercato con le power bank io normalmente non mi soffermo a fare un video per una power bank che sostanzialmente è abbastanza normale anche se poi vedremo che ha delle caratteristiche tecniche importanti però sto provando questa soprattutto perché poi voglio provare quella da 10.000 miliamper ora quindi il doppio di questa perché quella è un prodotto secondo me ancora più interessante il power bank di cui parliamo oggi si chiama rapid 5000 perché è una 5.000 miliamper ora indicato un po più per gli iphone perché comunque al mag safe per quelli di ultima generazione dal 15 in poi perché ha la connessione cablata type sim è un prodotto che non costa poco perché questa da 5.000 miliamper ora costa 69 euro e 99 vi lascio poi in descrizione link eventuali codici sconto eccetera è chiaro che subito molti penseranno ma io una power bank così la trovo su aliexper se la pago 10 euro perché devo comprare questa perché qui abbiamo un prodotto di una qualità molto più alta allora intanto hanno cercato di curare l'aspetto dei materiali estetica perché comunque chi ha un telefono da 1400 euro magari vuole andare in giro con questa e non con quella di aliexpress ma poi soprattutto vi dico già che la vedrete abbastanza normale ma ha delle caratteristiche tecniche invece particolari usa l'uscita di ricarica che si chiama cui 2 che sostanzialmente il doppio più veloce della tecnologia cui 1 perché arriva a caricare a 15 watt wireless e 30 watt via cavo utilizza poi una tecnologia di eco flow che si chiama x stream per avere una densità energetica a livello smartphone per garantire un equilibrio tra compattezza e potenza per darvi dei dati ad esempio di ricarica wireless il mio iphone 15 pro con questo power bank lo carico al 50 per cento in 40 minuti quando con la vecchia tecnologia la cui 1 ci sarebbe voluto il doppio del tempo questa ricarica 30 65 watt che è bidirezionale vi permette con una buona sorgente di caricarla se avete fretta al 70 per cento in 33 minuti dichiarati dopodiché possiamo usarla per tutti gli iphone che hanno la ricarica wireless e il sistema mag safe ma il sistema mag safe e la ricarica wireless in realtà lo possiamo usare anche per telefoni non iphone adesivo metallico per il magnete comunque li vendono o ci sono le cover insomma altri sistemi possiamo utilizzarla per caricare anche dei macbook dei portatili normali con windows insomma è una power bank versatile con cui possiamo fare un po di cose abbiamo parlato di mag safe posso dirvi che monta dei magneti per attaccarsi all'anello che sono dei magneti n52 che dovrebbero garantire un ancoraggio molto molto sicuro vedremo poi che ha lo stand integrato per tenere il telefono in orizzontale verticale insomma un po di caratteristiche ve lo date i numeri grossi ve lo dati direi di passare allo spacchettamento fare un po di prove ma prima mi raccomando iscrivetevi al canale che non vi costa nulla è gratis solo un click ma mi date un grosso supporto andiamo avanti col video eccolo qui eco flow rapid magnetic power bank da 5000 mili per ora un caricatore magnetico fast rivoluzionario vediamo già dalla scatola che ha questo case argento con cavo integrato stand per il telefono design compatto tutto integrato uso versatile va bene tiriamolo fuori tutta la confezione di cartone anche la base non abbiamo altri accessori qui abbiamo del cartaceo che riguarda una guida rapida e un certificato di garanzia dispositivo in bustina e voilà allora è plastica però ha una buona solidità verniciato in questo colore argento molto molto elegante tutta questa parte con il cui e il magnete in una specie di gomma che offre un buon un buon touch diciamo una buona sensazione marchio eco flow porta type c di ricarica qua abbiamo lo stand che fa parte di questa parte invece cromata specchio vediamo se funziona anche da specchio direi di no perché deforma molto però magari per il gentil sesso comunque darsi un'occhiata veloce giusto per vedere se abbiamo del prezzemolo tra i denti funziona qui abbiamo lo stand integrato senza unghie diventa un problema per fare da supporto al telefono in orizzontale ma anche in verticale cavo integrato esce fuori in questo modo è di gomma passa qui dentro non è molto lungo ma c'è abbiamo poi qui un pulsante che una volta premuto vedete che viene fuori un piccolo display integrato che non è un display ma sono dei led si accendono due puntini vediamo se riesco a farvelo vedere senza luce che magari è meglio ok vedete livello 4 siamo a 2 mettiamolo in carica vedete che compare l'indicatore di ricarica col flash verde e i led che piano piano si riempiono in questo momento tramite una porta di tipo a con tensione a 5 volte sta caricando a 8 watt se invece colleghiamo un cavo ad alta potenza sulla type c in uscita di un dispositivo che può erogare più corrente abbiamo una ricarica 15 volt a 30 watt col cavetto integrato che è anch'esso ad alta potenza carichiamo sempre a 30 watt 15 volt ora la prima ricarica la farei in modalità un po più soft lo porto al 100% poi facciamo un po di prove con la ricarica sia via cavo che magnetica perfetto dispositivo carico come ce ne accorgiamo 4 led accesi fissi possiamo scollegarlo e iniziamo a fare un po di test dunque ricarica wireless magnetica chiaramente parliamo di dispositivi con il magneto integrato o con la cover con l'anello come si presenta si presenta in questo modo quindi un dispositivo che viene collegato parte in automatico la ricarica sul dispositivo vedete 78% col fulmine vi faccio vedere che lampeggia al quarto led scenderanno di conseguenza fino ad indicare che la ricarica si sta esaurendo col gancio possiamo chiaramente tenere il telefono in piedi utilizzando il cavetto vuol dire che possiamo tirarlo fuori collegarlo a un telefono sempre con la type c chiaramente perché parliamo di dispositivi che non sono più né micro usb e nemmeno porta lightning proprietaria di apple vedete che questo android mi va in ricarica veloce abbiamo il quick charge tramite cavetto usb ora la domanda è possiamo caricare due device contemporaneamente proviamo allora l'android collegato via cavo rimane in carica mentre l'altro telefono con la ricarica wireless no per mandarlo in ricarica dobbiamo sconnettere il cavo scollegare di nuovo il dispositivo riattaccarlo e allora parte la ricarica vediamo se facciamo all'inverso sia mettendo in carica lui e attaccando il cavetto in questo modo invece me li sta caricando perché vedete che abbiamo dispositivo android via cavo in carica e dispositivo apple con la wireless sempre in carica quindi riesce a gestirli anche contemporaneamente in questo caso parliamo di un iphone 15 pro che completamente scarico con i suoi 5000 mAh riesce a garantire una ricarica completa più un'altra piccola aggiuntina volevo verificare che riuscisse a caricare anche in modalità standard una qualsiasi telecamera e vedete che va in ricarica quindi questo è tutto un dispositivo sicuramente interessante è il primo che fanno è uno dei primi vediamo poi se amplieranno la gamma io intanto lo userò lo metteremo sotto stress vedremo anche la robustezza dei materiali la durata nel tempo quindi potreste ricevere poi degli aggiornamenti in futuro se siete interessati va bene 70 euro per avere probabilmente il top delle power bank compatte wireless che c'è in commercio ci può stare non ci può stare questo lo valutate voi io come sempre dico che vi porto informazioni poi sta a voi valutare i vari prodotti scegliere quello che più vi interessa per caratteristico opera rapporto qualità prezzo e fare un acquisto consapevole questo è tutto aspettiamo poi il modello da 10.000 che secondo me è molto più interessante se vi è piaciuto il video un bel like mi raccomando che non costa nulla noi ci vediamo al prossimo video prossima diretta il giovedì sera che riprendono da gennaio 2025 dopo le feste e se passate quel negozio c'è sempre il solito buon caffè grazie a tutti ciao da massi dattoli